Siamo con mister Silvio Frasca e con mister Giovanni Sorgente per dovere di ospitalità visto che ieri oggi c'è stato questo momento formativo prima il professore parlava di grande entusiasmo allora quali nozioni sono state date ai vari allenatori e all'allenatrice presente quest'oggi? Intanto ringrazio gli amici qui in Terra Calabra per l'ospitalità è stata un'ospitalità eccezionale, siamo stati in famiglia veramente per cui che concerne i fattori che possiamo trasferire, che il prof può trasferire ai corsisti si parte dalla base, si parte dal costruire la casa dalle fondamenta se non ci sono le fondamenta dove appoggiare giorno dopo giorno quei mattoncini che mettono in condizione il bambino prima, il ragazzo poi di poter giocare a calcio non c'è nulla pertanto la base è importante e noi di Individual Improvement School abbiamo avuto questa idea di mettere in campo un progetto polivalente che abbraccia un po' tutte le componenti che legano il calcio giovanile al mondo degli istruttori e degli allenatori coinvolgendo il prof, uno dei migliori professionisti in Italia e non solo, coinvolgendo Silvio qui in Calabria a Bovalino e con il supporto della nostra società cercare di crescere anche qui in Calabria con i nostri corsi, con i nostri percorsi di formazione noi oltre a questo facciamo anche un lavoro individuale che partiremo presto qui in Calabria sempre attraverso Silvio per lavorare su piccoli gruppi lavorare con una tecnologia importante quello dell'utilizzo delle immagini quello dell'utilizzo della tecnologia che ormai c'è addosso e ci guida e ci mette nelle condizioni di catturare quello che è il particolare attraverso l'errore del giovane che commette e poi lì bisogna mettere in campo le correzioni e lavorando a piccoli gruppi c'è sempre un ulteriore miglioramento rispetto alle abilità tecniche facciamo direzione tecnica alle società che fanno richiesta sono società che ci hanno richiesto il nostro intervento come supporto esterno noi siamo a disposizione per aiutare le società nella programmazione didattica e nel metodo di sviluppo di quelle che sono le attività all'interno della loro scuola calcio e della loro società un'ultima domanda prima di passare al mister Fresca secondo lei parliamo in generale dello stato di salute delle scuole calci italiane si fa effettivamente un buon lavoro sul fisico e sull'impostazione diciamo sui dettami tattici che poi vengono dati ai ragazzi oppure bisogna migliorare su questo perché forse si pensa troppo ai risultati e meno alla formazione effettiva dei ragazzi anche perché per citare Gianni Morandi poi uno su mille ce la fa a sfondare veramente il mondo del calcio 10.000 purtroppo questo è la se la vogliamo chiamare pecca che abbiamo negli ultimi anni l'obiettivo della vittoria questo va a condizionare la formazione del giovane non si lascia libero il giovane di esprimere in campo quello che ha tra virgolette studiato insieme al proprio allenatore e istruttore con la libertà di non avere questo peso addosso che è la vittoria perché la vittoria ha una valenza nel settore giovanile che è pari a io non dico a zero perché la mia idea è quella di pari a zero però ha una valenza del 10% il 90% conta quello che io riesco a sviluppare in campo in presenza della componente avversaria se io ho un avversario e ho imparato durante la settimana con il mister fare un dribbling, un passaggio, una ricezione in presenza di un avversario ci devo riuscire è quello che mi condiziona a me la giocata se io invece ho nella mia testa la pressione dell'allenatore la pressione della società che mi impone di portare a casa la vittoria perché serve a mettere delle coppe all'interno della sede delle scuole calcio e poi il ragazzo non è libero perché sente questa pressione noi questo non lo dobbiamo fare non lo possiamo fare noi allenatori di settore giovanile dobbiamo pensare che abbiamo davanti un giovane che deve crescere e non un calciatore già pronto e costruire la squadra non con l'obiettivo della vittoria ma con l'obiettivo della formazione attraverso vari step di crescita questo è quello che noi dobbiamo fare se vogliamo risalire alla china c'è anche da dire che ci sono troppi tatticismi all'interno delle scuole calcio si sente parlare di terminologie che non sono comprensibili alla parte cognitiva del bambino e del ragazzo allora questo deve essere messo da parte e mettere al centro di tutte le attività cosa? il bambino prima e il ragazzo poi Mister Frasca che lavora con i più piccoli allora quello che mi chiedo è questi eventi formativi quanto sono importanti per catturare l'attenzione del vostro materiale umano e soprattutto mantenere poi nel corso del tempo e per tutto il percorso di crescita i ragazzi a continuare a fare sport guarda lavorare con i giovani è molto difficile anche perché devi capire chi ti trovi davanti che le difficoltà che ha il bambino sia di tenere età parliamo di 4, 5, 6 anni che poi come il gruppo che ho avuto io quest'anno gli allievi che arrivano fino al 2002 17 anni che hanno varie problematiche i piccoli hanno problemate piccole i grandi hanno problematiche diverse però io dico sempre quando riesci ad avere l'attenzione del ragazzo per tutto l'allenamento o in più per tutto l'anno vuol dire che ha fatto un buon lavoro vuol dire che riesce a tenerli con l'attenzione sul campo con la testa sempre lì a quello che si va a fare e quindi è una vittoria questa certo poi bisogna pure vedere le varie società cosa vogliono io ho la fortuna di lavorare in una società dove il risultato non conta tanto però conta la formazione dei ragazzi quindi la formazione dei ragazzi quando a fine anno un ragazzo l'hai portato da zero pure a uno hai fatto un ottimo lavoro perché poi bisogna vedere chi porti a uno chi porti a due chi porti a tre e c'è sempre tutto un lavoro dietro una domanda per entrare un po' sullo specifico del nostro territorio vale a dire la Locride soprattutto quest'anno a parte l'esempio felice del San Luca è la bovarinese che ha fatto un buon campionato diciamo non si è propriamente riso come mai però il settore giovanile ha fatto buoni risultati quello dell'Ocri anche come mai però spesso non si riesce a trasportare il buon lavoro che si fa con i giovani sulle prime squadre e questo dovreste chiedere alla dirigenza delle prime squadre perché là secondo me almeno una prima squadra deve avere per forza il settore giovanile il settore giovanile è di proprietà e deve investire nel settore giovanile perché per abbattere i costi nella prima squadra deve avere il vivaio che ti viene su con i bambini e con i ragazzi per poi portarli in prima squadra altrimenti una società o trovi il miliardario di turno oppure non so come si può sostenere e questo la società in primis deve pensare agli istruttori validi che davvero gli fanno crescere il ragazzo per poi poterlo sfruttare nella prima squadra altrimenti se li metti là solo perché devono vincere il campionato perché sono i più forti è inutile poi dire ah ma questi non sono i miei questi non sono buoni questi non sanno fare la tecnica lo pensi prima non ti trovi i problemi dopo e l'ultimissima domanda per quanto riguarda il discorso strutturale ecco unire la preparazione di voi istruttori a delle strutture degne di questo nome visto che ormai siamo nel 2020 praticamente quanto è importante e cosa c'è da fare anche in questo caso per cercare di far crescere sempre di più il movimento allora io penso che le società sia settore giovanile che prime squadre spendono tanti soldini per fare dei campionati che si mettessero d'accordo anche ad avere un contributo dalla Lega per le strutture cioè ci sono ancora campi qua in Calabria parlo diciamo della zona ionica che hanno il campo intero e battuta ci sono squadre che devono giocare in un campo dove gioca la prima squadra devi giocare sabato poi devi giocare giovedì poi devi giocare lunedì perché giocano 3-4 squadre in un campo non è possibile che un paese non abbia un campo proprio cioè la Lega prende sì le iscrizioni prende le multe prende tante cose però può pure aiutare le società dare una mano anche perché se le società investono e hanno una struttura adeguata producono di più e la Lega può chiedere pure di più secondo me che